Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Marco Travaglio, stamattina in conferenza stampa a Sanremo, Amadeus e Marco Mengoni sollecitati si sono dichiarati antifascisti e hanno intonato Bella Ciao. Questo diventa una notizia perché parte del governo e di questa maggioranza non riesce a dirsi antifascista? Non vorrei deluderti e finire in qualche lista di fascisti, ma a me della dichiarazione antifascista delle due persone suddette non me ne può fregare di meno, nel senso che non cambia assolutamente le cose. Credo che i nostri rappresentanti al governo non si dichiarino antifascisti perché non sono antifascisti, non sono nemmeno fascisti, sono afascisti, sono completamente indifferenti al tema e hanno diversi elettori fascisti che non gradirebbero una loro dichiarazione di antifascismo. Dopodiché continuare a chiedergli di dichiararsi ciò che non sono sta diventando un esercizio abbastanza ozioso. Io poi so qual è un po' la storia di Bella Ciao, Bella Ciao non c'entra niente con la guerra partigiana. Giorgio Bocca diceva che non ho mai sentito un compagno partigiano cantare Bella Ciao alla Brigata Garibaldi e cantavano Fischia il Vento, che è una canzone che riprendeva un motivo sovietico. Bella Ciao è nata dopo, o comunque non era l'inno dei partigiani. Diciamo che sono tutte manifestazioni di maniera anche di folklore, anche per carità ironiche, sul momento che viviamo, ma non spostano le cose. Io ho cominciato a leggere il libro del professor Canfora, che inizia proprio con questa frase. Questa spazzatura non piace a noi nazisti. Noi stiamo immaginando che possa essere, che ne so, una dichiarazione di un neonazista amico di Putin, Orban, che ne so, uno dei babau che sventoliamo sempre in nome dell'Occidente dei buoni. E invece è il nostro alleato ministro del governo ultraatlantista che è appena entrato nella Nato e che si chiama Will Riedman, perché la Finlandia che è appena entrata nella Nato ha un governo con un ministro che dice noi nazisti, ed è al suo posto, ne hanno mandati via altri due che avevano detto di peggio, ma quello rimane. Quindi anche questa abitudine di cercare i fascisti e i nazisti dove non ci sono e poi di non vederli dove ci sono fa abbastanza ridere. Io ricordo che per due anni abbiamo sentito magnificare il battaglione a Zov, dove sono nazisti con le svastiche tatuate, ma dato che sono amici nostri abbiamo fatto finta che fossero dei partigiani che combattevano la nostra resistenza. Ecco, io comincerei a cercarli dove sono, i fascisti e i nazisti, a non scambiare le parodie che abbiamo in Italia con un fenomeno tragico e quindi serio come fu invece il fascismo. Allora, professor Canfora... Fora...